La dirigenza della Battipagliese consegna il titolo sportivo alla sindaca Cecilia Francese. Alla base della decisione, l'assenza di strutture calcistiche in città per proseguire la stagione agonistica, l'immobilismo dell'amministrazione comunale nell'affrontare la problematica relativa alla chiusura dello stadio, i mancati introiti derivanti dai mancati incassi per le gare casalinghe giocate in altri campi della provincia e l'impossibilità di poter iniziare una programmazione futura per l'assenza di uno stadio in città. A tale determinazione, affermano dalla dirigenza, si è pervenuti dopo aver più volte cercato di sensibilizzare inutilmente l'amministrazione comunale su tali problematiche.